Buongiorno a tutti, è una presenza interessante, sono varie generazioni, quindi non è facile parlare nello stesso modo efficace a generazioni diverse, ma è quello che dobbiamo imparare a fare. Io sono qui per almeno tre motivi, il primo perché mi ha chiamato ANPAS, perché con ANPAS nazionale, attraverso la storia che vi ha raccontato Concetta, si è instaurato un patto di collaborazione che dobbiamo via via mettere al lavoro, oleare e far funzionare, ANPAS può essere un organo molto importante proprio per la sua diffusività, per la sua presenza capillare in Italia, per diffondere la formazione, la cultura, l'informazione rifiuti zero. ANPAS è parte delle comunità, rifiuti zero punta sulle comunità, ecco perché noi puntiamo su ANPAS. Il secondo motivo è perché io stamattina sono venuto qui all'Atronico per aprire la porta di rifiuti zero in Basilicata. Vedremo anche più nel dettaglio che cosa comporta per un incomune aderire a rifiuti zero, quali sono i problemi dei comuni rifiuti zero, il messaggio negativo che ad oggi tra i 200 comuni che aderiscono a rifiuti zero non ce n'è alcuno della regione basilicata. Ecco ci piacerebbe che l'Atronico fosse il primo comune lucano, con mi chiede di esprimermi usando questo aggettivo l'amico Enzo Favoino della scuola agraria di Monza, che mi ha mandato un messaggino adesso, dice io i miei genitori sono lucani, chiama Lucania per la terra. E' l'inizio di una storia, io credo che anche questa diventerà una storia al dietro fine, o meglio al dietro inizio perché quando si inizia c'è sempre l'energia della novità, l'energia della percezione di star facendo qualcosa che libera energia. E questo io lo dico per i giovani, per i ragazzi è bellissimo, quando tu partecipa a qualcosa a due pompe grosse così ti fai... ecco, bisogna liberare quando si ha l'opportunità di partecipare a qualcosa che libera energia, quello è l'indicatore bioenergetico, che qualcosa di nuovo sta avvenendo. Rifiuti zero è qui dentro. Ha liberato energie, ha liberato processi di apprendimento collettivo, ha connesso i saperi informali delle comunità, tanto distrattati, con i saperi formali delle università e dei centri di ricerca. Questa è l'originalità, la genialità, la semplicità di Rifiuti zero che credo sia un elemento di speranza in tempi in cui la crisi ha, diciamo, frustrato, sta frustrando molti settori della nostra società. Però io rimasi colpito quando nelle Filippine partecipavo come delegazione italiana al quinto incontro mondiale, al sesto, ho detto, per dei conti, al sesto incontro mondiale della Zero Waste International Alliance. Nel linguaggio orientale la parola crisi significa anche opportunità. Noi credo che non dobbiamo aver paura della crisi. La crisi rimessa riscola le carte e chi si eccita quando c'è riscolamento di carte, quando c'è da dire delle cose nuove, ed è bello partecipare a dire cose nuove, è il momento opportuno che entra a far parte della famiglia internazionale di Rifiuti zero. Vi sono alcuni mantra che vengono ripetuti ormai per tutta l'Europa, attraversano l'Europa e forse vanno anche al di là dell'Europa. Uno di questi mantra è che nel cassoletto c'è una vera e propria miniera urbana. Questa consapevolezza non muove dalla necessità di far tesoro della sostenibilità ambientale, o meglio, non è soprattutto per motivi di sostenibilità ambientale che l'Europa sta enfatizzando il recupero dei materiali, l'avvio al loro riciclo. È per motivi macroeconomici. Se vogliamo difendere l'industria manifatturiera europea, noi non possiamo mandare le fibre scendolose che la carta in Cina, le plastiche in Cina o lasciare alla Cina, per esempio, il monopolio delle terre rare, con cui si fanno i telefonini, con cui si promuove l'informatica. Se vogliamo difendere l'industria manifatturiera italiana ed europea, dobbiamo utilizzare per noi. I metalli, pensate al rame, costa oltre 7.000 euro alla tonnellata. Ieri sera la freccia rossa, su cui mi hanno prenotato un posto gli amici di Ampas, ha ritardato perché c'era stato un furto di rame sulla linea Napoli-Salergi. Ma l'alluminio, hanno costi elevatissimi, ma anche le fibre scendulosiche, sul libero mercato ogni giorno cresce, lievita il costo e il prezzo delle materie prime e seconde. Gli analisti europei, funzionari europei, prevedono che nei prossimi 25 anni il fabbisogno di materie prime e seconde aumenterà del 75%, ecco perché nel 2012 si è detto con grande chiarezza nel Parlamento europeo che non si potrà più bruciare o mettere in discarica tutto quello che è riciclabile e compostabile. Siccome praticamente tutto è riciclabile e o compostabile, praticamente per la prima volta l'Europa, attraverso i suoi complessi livelli governativi, ha detto di voler imboccare la strada dei rifiuti zero, d'altronde il ministro per l'ambiente sloveno, Potonic, ha detto che il rifiuti zero è possibile e la Slovenia, il suo paese rubiana, è la prima capitale europea che sta ormai superando, che ha oltre il 60% di raccolta differenziata. Ecco, se si può fare tutto schermo, ecco, allora, i 10 passi di rifiuti zero, questi sono i 10 passi, io non mi fermerò su ogni stazione se non diventa la via Crucis, il primo e l'ottavo sono i passi fondamentali, probabilmente più importanti, quelli diciamo che fanno la differenza, che mettono in contatto con la caratteristica di modellizzazione dei rifiuti zero, rifiuti zero è un modello alternativo al modello tradizionale di gestione dei rifiuti, che si chiama sistema integrato di gestione dei rifiuti, ha un nome così lungo, si scrive così, ma si legge in cenerimento. Bene, questo è un modello alternativo, la caratteristica fondamentale del primo passo è di ritenere il problema della gestione dei materiali di scarto non un problema da affidare all'ultima generazione dell'impianto, non è un problema di macchina, non è un problema di macchine sempre più magiche nel distruggere i rifiuti risorsi, è un problema di organizzazione sociale, è un problema di buona formazione, di buona informazione, di buona comunicazione, di buon coinvolgimento, di buona educazione, è la comunità che fa la differenza e fa la differenziata. Il problema della gestione dei rifiuti non è un problema, visto che ci sono tanti ragazzi, di hardware, ma è di software, di idee organizzative, di come comunicare, arrivare fino all'ultima fila e spiegare dove si mette il tetrapack, dove si mette la carta della pizza, dove si mette la carta unta. Ecco, è questo che fa la differenza, è questo che rende la macchina sociale molto più efficiente della macchina tecnologica. Il rifiuti zero dice no all'incenerimento dei rifiuti, in tutte le sue forme, sia, diciamo cosiddette, dedicate, sia alle forme non dedicate di incenerimento. colgo l'opportunità, l'orgoglio, anche se volete la solennità di dire che noi appoggiamo la battaglia delle comunità dell'area del Pollino contro la centrale del Mercolo. è un errore, è un gravissimo errore, è un gravissimo errore, bruciare anche fosse solo legno non trattato per gli impatti ambientali e sanitari, l'impatto sanitario è legato all'emissione di polveri, nanopolveri che vengono sprigionati anche dalla combustione del legno, specialmente se in quelle quantità 300.000, 350.000 tonnellate in un anno. Ma oltre a questo l'impatto ambientale, cioè solo in paesi dove non c'è trasparenza nella politica, come ahimè spesso avviene in Italia, si può fare il parco e dentro il parco realizzare questi impianti di industria sporca e assistita. Assolutamente grida vendetta tenere impegnate per dieci anni le comunità di un intero comprensorio a lottare contro questo impianto. Questa storia va chiusa. Io in questo senso, per quello che può significare come presidente di Zero Waste Europe, sostengo la battaglia delle comunità del Pollino contro questa centrale elettrica. Non è assolutamente sostenibile, invito i sindaci, invito tutte le comunità a fare un lavoro di cooperazione, di sostegno economico, psicologico, di appoggio politico-culturale a coloro che lottando contro quell'impianto tengono aperta la porta allo sviluppo di un modello ecosostenibile per quest'area. L'industria sporca lascia sul terreno, lascia le comunità, le scorie e non si sa dove porta il bottino. Ecco perché anche assistita, perché poi la paghiamo con le bollette elettriche. Ecco perché il più di zero dice no alla combustione anche nelle forme cosiddette non delicate, perché come è successo a Massatra, io devo andare nei prossimi mesi a Massatra, in provincia di Taranto, l'impianto Marcegaglia partì che bruciava legno vergine, poi cominciò a bruciare il CDR, adesso si chiede la triplicazione degli impianti. Sono impianti, sono inceneritori sotto mentite spoglie. Si parte in un modo, si arriva in un altro, ma anche se si partisse e si mantenesse quel binario, è un binario assolutamente inaccettabile. Ma il no che noi proponiamo all'incenerimento dei rifiuti è un no, che anche e soprattutto di tipo organizzativo funzionale. Se noi realizziamo impianti di incenerimento, per 20-25 anni dobbiamo conferire rifiuti. E in forza delle caratteristiche tecniche, della rigidità dell'impianto e in forza degli ingenti investimenti ottenuti dalle banche, che poi vengono ripianati sulla base della tariffazione, tares, tarso, tasi, intasi, che cambia ogni giorno nome, non si sa bene a che cosa si arriverà, non solo in termini nominalistici, ma in termini di provvedimenti concreti, questi impianti hanno bisogno di mantenere l'attività per almeno 20-25 anni. E oggi un impianto, solo un impianto che ha una capacità di trattamento che supera le mille tonnellate al giorno, è in grado di stare sul mercato, ce lo insegnano gli inceneritori della Lombardia, a Milano, su tutta la città, è iniziato il porta a porta della frazione organica, si comincia a capire che per i quattro inceneritori della provincia di Milano non ci sarà più trippa da assaggiare, ma da paradigma, da esempio eclatante ce lo fanno i paesi del nord, la Svezia, l'Olanda, la Danimarca, che avendo realizzato impianti che bruciano più di 2000 tonnellate al giorno, hanno bisogno di importare rifiuti, tant'è vero che le navi di Napoli trovano più economico portare i rifiuti di Napoli e della campagna a Rotterdam che portare da Nacerra a 15 chilometri, perché questi impianti hanno bisogno di bruciare e se non afferisce rifiuto vanno in difficoltà economica e anche tecnica. Ecco perché rifiuti zero dice no all'incenerimento, ripeto, è un no che non è un no ideologico, ma è un no funzionale. Se si fa l'inceneritore non si fa riduzione, non si fa riparazione e riuso, non si promuovono le buone pratiche di riciclo, non si promuove il compostaggio né di impianto né di tipo domestico. Rifiuti zero. Quindi puntaselo sulle comunità, non si ripeta mai più lo schema di Napoli. Quando dal 29 agosto del 2004 la popolazione che diceva no agli inceneritori, no alle discariche e che diceva noi siamo disposti a fare la raccolta differenziata, ci prendiamo noi in carico il problema, un gran parte del problema, siamo noi parte del problema ma saremo parte della soluzione. Lo schema fu classe politica che mandava la polizia a tirare i lacrimogeni sui cortelli. Ecco, quello è stato l'esempio più ecclotante in cui non si deve più far ripiombare la gestione dei materiali di scarto, con le comunità occorre alleanza, non individuare nelle comunità il nemico da battere. Non a caso è fallito quel sistema, per quanti anni ci sono voluti, perché c'è stata la terra dei fuochi a Napoli e dintorno? Perché la comunità la si è disinformata, la si è tenuta lontana anche per finalità inconfessabile, non è un caso che la malavità si sia infiltrata e abbia fatto il bello e il cattivo tempo in quei contesti. La comunità quando fa la raccolta differenziata non solo ripulisce l'ambiente ma ripulisce la società, perché quando sono le persone che decidono dove mettere il vetro, dove mettere il polimero plastico, dove mettere il metallo e così via, non solo risolvono il modo positivo per l'ambiente e per la salute, un problema di grande rilevanza anche economica per i bilanci comunali, ma impediscono che la criminalità inquini, inquini come è successo non solo a Napoli. Il mondo politico crei strane e profonde e cancerogene alleanze con gruppi politico-affaristici, quindi rifiuti zero non parla di rifiuti, ma parla di buona democrazia, di buona società, di buona comunità. Il rifiuti zero è molto semplice, parte da una semplice constatazione, io i rifiuti ce l'ho se mischio tutto, se mischio l'umido con quello che non è umido, cioè con la carta, con il vetro, con le plastiche. Se io tengo separata la frazione organica dal resto, io non ho rifiuti, ma ho preziosissimi materiali di scatto. E' questo che ci dice il primo passo dei 10 rifiuti zero. I passi successivi sono se organizzo un sistema porta a porta, ottengo risultati che immediatamente fanno schizzare oltre il 65, il 70%, anche forse oltre l'80%, occorrono adeguate isole ecologiche o ecocenti per portare materiali ingombranti, per portare certe tipologie di scatto, pensiamo ai pannoloni, pensiamo ai pannolini, pensiamo ai calcinacci, pensiamo allo scatolone del frigorifero di carta che è ingombrante, che non riesco a mettere dentro il bidoncino della raccolta porta a porta e occorre ben comunicare alla comunità come si fa. Lì la comunità, meglio l'amministrazione pubblica, nel comunicare come si fa la raccolta differenziata, non solo offre un servizio positivo, fa riuscire un progetto, ma recupera il volto umano della politica. La politica è quando il sindaco va a bussare alla porta e apre la signora e dice che ci fa? Sono venuto a spiegarle dove mettere il tetrapack. Da domani quando parte il porta a porta, il tetrapack lo metta lì, la bottiglia di acqua di vetro la metta di là, la raccoglieremo una volta ogni 15 giorni. Quello che non è riciclabile lo vorremmo a prendere una volta alla settimana. Ecco, il sindaco dice che è venuto il sindaco. Mamma mia, allora non è quel burocrate che sta laggiù in fondo al bancone. E qui io credo che si rifonda così la politica. La politica è quella della gente comune, è quella di respirare i problemi della gente comune, è quella di portare in unità le soluzioni che ha a disposizione, sempre di minore importanza purtroppo economica, ma di grande rilevanza. Ecco, noi ci puntiamo su questo rifiutizzare un movimento bottom-up, spinge dal basso e non è un caso che le prime porte delle istituzioni che ci stanno aprendo sono quelli dei comuni, perché sono i sindaci, sono gli assessori, sono i consigli comunali che vivono più vicini alla comunità e sentono le difficoltà che la comunità incontra, ma magari sanno anche dare, perché conoscono il territorio, perché sono titolari del sapere informale che a volte è la soluzione del luogo di Colombo e che quindi fa è valore aggiunto. Avremo tantissimi materiali intercettati con il porta a porta, la frazione organica andrà sottoposta a compostaggio o a digestione anaerobica, secondo insomma delle varie caratterizzazioni territoriali, io sono a favore della digestione anaerobica, quasi terminale condizione, e i materiali come la carta, metalli eccetera dovranno essere ubicati preferibilmente verso aree industriali già dotate di logistica, cioè di strade attraverso le quali camion che aumenteranno nel numero, parzialmente nel numero, a portare la carta, a portare metalli, a portare le plastiche e così via. Mentre gli impianti di compostaggio condivido l'idea che piccole comunità come la vostra probabilmente possono anche gestire in modo diverso, più diffuso il flusso di scatto organico, bene, possono e devono essere realizzati vicinissimi ai potenziali utilizzatori, che sono le fattorie, che sono i contadini, che sono gli agricoltori, mentre gli impianti di riciclo devono essere realizzati in aree industriali che purtroppo, ahimè, oggi ci propongono grandi, numerosi capannoni industriali che sono praticamente vuoti. Occorre, il quinto passo, realizzare centri di riparazione e riuso. E' stata fatta un'indagine a Los Angeles, su 100 dollari, 40 dollari vengono dalla commercializzazione dei beni seconda vita, dai mobili usati, dagli elettrodomestici usati, da oggetti usati, quindi promuovere centri di riparazione e riuso è un modo per promuovere piccola ma significativa impresa locale. Io l'altro giorno sono stato chiamato a Livorno, dove un gruppo di giovani ha occupato un grande locale dell'ASL, lo hanno ripristinato, impiancato, abbellito, anche perché il comune non ha risposto alle proprie sollecitazioni e hanno cominciato a riparare i divani e hanno dato lavoro a otto persone, alcune delle quali licenziate, per esempio, Konad, senza fare pubblicità. Anche qui, voglio dire, se venissero messe a sistema queste idee, i risultati sarebbero importanti e significativi. Nel Sud, ma non solo nel Sud, c'è questa sciatura della disoccupazione giovanile. Dobbiamo inventarci delle soluzioni, ci sono a disposizione, ma io parafraso sempre la canzone di Coccianti. Ci sarà pure un perché se negli Stati Uniti l'industria del riciclo impiega più addetti dell'industria automobilistica. Ci sarà pure un perché se l'unico fatturato che in tempo di crisi in Europa aumenta è quello del riciclo e dopo viene quello delle energie rinnovabili. Il riciclo è l'industria che fa spinta. Non è un caso che nel 2011, nel novembre 2011, l'Unione Europea ha prodotto un paper, ha prodotto un report, uno studio, in cui si dice che l'uscita dalla crisi in Europa ci sarà quando saremo capaci di promuovere come volano l'industria del riciclo. Sei faccia finita di ritenere la questione del riciclo, la questione di una virtuosa gestione dei materiali di scatto come una questione marginale. È una questione che coinvolge la sostenibilità ambientale, ma coinvolge anche il futuro imprenditoriale e il futuro occupazionale di tutto il nostro Paese, di tutto il nostro Paese. In particolare nuove professionalità, nuove domande di lavoro potranno essere messe a disposizione soprattutto dei ragazzi, soprattutto dei giovani. Il sesto e il settimo passo ci dicono che bisogna essi può ridurre i rifiuti, poi vi farò vedere velocemente alcuni esempi attraverso delle slides, anche a livello locale con i riprenditori alla spina, non all'useggetta, non nelle bottiglie di plastica, nelle scuole, nei momenti pubblici. Bisogna riconoscere lo sforzo che fa la comunità. Oggi c'è un dibattito per un preoccupante sulla Tares. Sono arrivati, sabato era Montefiascone, volevano pigliare il sindaco, sono arrivate le bollette. Ragazzi, bisogna essere chiari. Le colpe non sono sindaci, sono quelli che arrivano sempre in fondo. Non voglio assolvere né questo né quello di sindaci. Però i cittadini quando fanno la differenza e la differenziata devono essere riconosciuti nel loro lavoro. è un piccolo sforzo. Si fa per senso civico, si fa per la vita del bambino, per la vita del nipotino, per il futuro, ma si deve fare anche per l'economia della pizzeria. Le pizzerie vedono aumentare del 200-300% a seconda di quale il regolamento passa per la Tares. Quindi può fare anche differenza economica per la ristorazione. Chiudere o lasciare aperto o assumere un cameriere. Quindi molta attenzione bisogna riconoscere incentivi economici, quello che avviene attraverso la tariffazione di genere ambientale. Cioè pagare in base alla frequenza del ritiro del sacco dell'indifferenziato. Più virtuoso sono, meno pigro sono nel separare e meno pagherò. Più pigro sarai, è un po' più studicione sei e più è giusto che paghi. Ecco, quindi rinforzo. Magari non si fa per 60-70 euro un fondo all'anno, ma anche con 60-70 euro si rinforza il messaggio, si comunica in modo efficace. Allora il sindaco mi ha detto che sono stato bravo. Quindi non è solo per il vil metallo che si fanno certe cose, ma l'economia, la microeconomia può aiutare. Nel caso invece delle utenze speciali di certe categorie di esercizi non è affatto microeconomia, ma è macroeconomia per quei bilanci che non sempre sono al massimo. Arriviamo, fino al settimo passo si risolve il 70% del problema, ma il protagonista è la comunità. Lo può fare l'atronico. Voi potete arrivare anche all'80-85% sulla base di esempi che ci sono non solo al nord-est, a Sburgico, non solo il nord-ovest piemontese, ma anche arrivando a Salerno. Ieri sera siamo fermati in pizzeria proprio un pezzettino borbonico, ecco, un pezzettino di pita con la fame che crepava e c'erano tutti i contenitori, il vetro, le plastiche, tutti io, siccome sono fissato, sono andato a aprirli e c'è tutto pulito. Quindi dov'è questo mito odioso razzista del sud del sud, quando si offrono i servizi? Funzionano nel nord-est, nel nord-ovest, nel centro, a Cappisa, a Cappisa, che è una rivalità di Cappisa. Salerno è il comune più proposto in Italia che ha la più alta percentuale di raccolta differenziata. Non ci facciamo ingannare quando ci dicono, ma il cittadino che non è all'altezza, sei tu che non c'è all'altezza di amministrare quei cittadini. Da, il tuo ordine del dottore, di fare il sindaco, di fare il politico e di fare la pagina. Va bene? Su questo bisogna essere determinanti. Il rifiuti zero, dico sempre, opera il sud della passione civile ed il nord dell'espertise. Ma il sud della passione civile è fondamentale. Essere ben disposti verso gli altri, non essere furbetti. Non pensiate che essere furbetti risolve il problema. Bisogna guardare in faccia la realtà. E se si conta su un buon gruppo di amici, siamo fortissimi, è quella la nostra forza. Essere parte di un messaggio e di una realtà di solidarietà. A quel punto siamo imbattibili. Inevitabilmente avremo dei problemi, ma se siamo delle persone dentro una comunità, i problemi li risolveremo. E credo che ci ricorderemo positivamente anche di quel passaggio di vita. Il 30% di silo è ciò che è stato provocato dai produttori, dalle imprese. Hai prodotto il tetrapack? Come si fa a riciclare? Ma dove si mette? Nella plastica? Non c'è dormito stanotte. Oppure nella carta? Il tetrapack si può riciclare. Io vengo da Capanno, nel distretto cartale che è un portante d'Europa. Esiste Lukart, quello che fa i fazzolettini. Ecco Lukart, che voleva fare una volta l'inceneritore. E lo abbiamo impedito per bruciare i fanghi. Ne produceva grandissime quantità perché voleva produrre il bianco, il bianco dei tovaglioli molto lucidi perché la lucentezza è la nostra fissazione. Se non c'è uno splendore supero sopra gli 80 gradi, mi dicevano non ce la compra nel supermercato. Beh, non sono riusciti a farlo. Hanno realizzato una macchina che recupera le fibre cellulosiche dal tetrapack. Il tetrapack che è formato per il 65% da carta e il resto da un misto di alluminio e di plastica a politilene che si chiama ecoallene che dà origine a un prodotto dove rimane misto ma può essere utilizzato in applicazioni plastiche. Quelle fibre che si recuperano dal tetrapack sono fibre lunghe e quindi con quelle si può fare anche carta tissue, la carta degli asciugoni e roba di questo tipo, però comunque si muove. Il tetrapack è un usegetto. Noi dobbiamo uscire dal cerchio incantato dell'inciviltà dell'usegetto. Non è più possibile i loro gambini di prima. Arrivano con la bibitina in tetrapack e poi la tirano via subito. Poveri che devo fare. Magari gaffa perché c'è anche la cannuccina. Ma non va bene, anche se fosse riciclabile. In realtà poi la gran parte del tetrapack viene bruciata anche se viene inviata a corretto riciclo attira, è appetibile perché produce energia elettrica. Anche se economicamente il percorso di cui vi ho parlato prima è molto interessante e sostenibile oltre che sul piano ambientale. Noi bisogna uscire dalla logica. Non va bene. Non va bene perché ogni volta che faccio così la generazione che viene dopo ce n'ha cento di meno di questi bicchierini che io ho tirato via. Non è nemmeno giusto nel rapporto con le generazioni. Chi fa così e soprattutto tiene in vita quel sistema che permette di far così, forse costringe anche di far così, depriva le generazioni che verranno dopo della possibilità di poter vivere su un pianeta che sia riproducibile anche per loro. Allora noi abbiamo un 30% che rimane. il passo numero 8 si diventa in due parti, 8A e 8B. Comunque sia quel 30% lo devo trattare, ma non necessariamente lo devo avviare in cenerimento dei rifiuti. Non necessariamente lo devo bruciare in cementifici che ora insieme alle centrali non dedicate chiedono, reclamano di poter bruciare rifiuti. Si può realizzare degli impianti che noi chiamiamo a freddo che sono ancora in grado di estrarre quelle risorse che sono fuggite dalle maglie strette del porta a porta. I metalli si recuperano con l'elettrocalamite, i polimeri di maggior pregio che sono quello delle bottiglie, il PET, l'HDPE, l'LDPE, il polipropilene, il politilene in genere, lo si può riconoscere attraverso dei set di lettori ottici che riconoscono addirittura quali sono le plastiche che hanno polimero omogeneo, che sono quelle che hanno un grande, hanno 400, 500, fino a 700 euro a tonnellata vengono rimunerati sul libero mercato, quindi raccogliere le bottiglie, ce ne vogliono tanti per fare una tonnellata, però significherebbe, diciamo così, incamerare il potenziale economico non indifferente. La frazione organica che è sfuggita al porta a porta, pensiamo alle grandi ristorazioni che magari non fanno buona informazione al loro personale, pensate ai bar dove il cliente magari butta il pezzo della pasta in un cestino dell'indifferenziato anziché nel pinoincino dell'organico, bene, la frazione organica che sfugge si stabilizza, cioè si sottopone a un processo di compostaggio aerobico, come diceva prima il ricercatore, non si inertizza al 100%, però il livello di cessione di liquidi, di percolati, che sono quelli che creano i disastri per le falde freatiche, per le falde acquifere dove vengono realizzati i buchi delle discariche, si riduce del 90%, si abbattono gli odori drasticamente, non puzzano, non si attirano gli animali, insomma si possono mettere poi questi terreni a ricopertura discarica in modo da tenerli lontani dal centro della discarica stessa. Quello che rimane al netto di tutto questo lavoro sono ancora dei pezzi di legno, delle cassette dell'ortofrutta, sono ancora magari dei pezzi di cartone che pur contaminati hanno ancora la possibilità di essere reintrodotti nei cicli industriali, per esempio della produzione dell'ondulato, delle scatoloni con cui noi andiamo a fare la spesa al supermercato, alla fine di tutto rimane un misto di plastiche che si chiama Plasmix, cioè un misto di plastiche. Bene, queste plastiche oggi noi abbiamo degli impianti che lavorano su ampia scala, io ne cito uno di Pordenone, ne cito un altro di Esten, provincia di Padova, ne cito un altro provincia di Rodrigo a Doppio Bello, in realtà più vicino a Ferrara, che sono in grado di trasformare questa plastica mista fatta di polimeri spuri che non legherebbero con loro se non aggiungendo degli additivi che impastano tra di loro sono in grado di produrre un elenco di 18 manufatti che vanno dalle cassette dell'ottofrutta, i vasi dei fiori, gli eunopallets, i profilati, i profilati sono le tavole per pavimentare le piscine, per costruire parchi pubblici, quindi oggi noi non abbiamo bisogno di impianti di incenerimento e possiamo abbattere drasticamente quello che viene avviato a discarico, se io 100 in un impianto del genere, da un impianto del genere sotto forma di flusso da avviare a smaltimento sarà 10-12 kg, ma noi dobbiamo abbattere anche questi 10-12 kg ed ecco il passo 8B, tutto quello che rimane sullo stomaco del sistema di digestione dei rifiuti, rifiuti zero lo vuole vedere, nel sistema tradizionale lo si fa sparire, lo si mette nella pancia della terra in discarica o lo si trasforma in nanopolveri attraverso i camini e i filtri dell'inceneritore, o chiun vede poi non vuole ma i polmoni rispiegano, il ciclo alimentare in camera inquinanti persistenti come le diossine e poi ci stupiamo se aumentano le malattie di derivazione ambientale, allora noi dobbiamo studiare quello che rimane, rifiuti zero vuole capire la patologia del sistema, se si capisce la patologia si innesca la diagnosi e la terapia, si dota il sistema di gestione dei rifiuti di quel sistema feedback di cui la natura ha dotato tutto in tutti noi, io ho mangiato la pizza ieri sera, mi è rimasta sullo stomaco sto male, è bene star male, è male star male però è bene che ci sia un segnale che mi dice Rossano hai esagerato, allora vai dal dottoresiero, lei va a mangiare la pizza tardi eh? A Salerno, a Salerno, no no ma era buona, non è per quella, era buona, sono, quindi capisco la patologia e quindi il dottore mi dice eh non lo fa più e poi intanto ti do queste pasticchine ma mi raccomando eh le pasticchine servono a farti passare dolore ma per un pochino ho dato una calmata. Il sistema di gestione dei rifiuti tradizionale non ha questo feedback, noi vogliamo dotare di feedback, di reazione, di retroazione il sistema per migliorarlo costantemente e adesso vi faccio vedere alcuni esempi. Rifiuti in zero va oltre il più importante riciclo, io sono stato un paio di volte in California, una volta a San Diego, una volta nell'aprile scorso a San Francisco, in California c'è una percezione tremenda dei continenti di plastica perché questi continenti di plastica i più grandi non gli unici presenti sul pianeta ma i più grandi sono tra le Hawaii e dalla costa californiana perché lì si incontrano le correnti fredde dell'Alaska e le correnti calde che vengono dal Messico e formano un vortice. C'è una consapevolezza tremenda tant'è vero che anche le multinazionali devono fare i conti con la messa al bando dei sacchetti di plastica e insomma in Europa questo non è così altrettanto, questo pericolo non è altrettanto percepito anche se ormai sappiamo che i polimeri plastici sono già entrati nella nostra catena alimentare perché proprio per effetto del giro delle correnti, ho conosciuto capitano Capitan Moore che è quel capitano che sta spendendo la vita nello studiare questo fenomeno, veniva alle conferenze con barattoli, con questo soup dove c'erano dentro i polimeri micronizzati dalle correnti che vengono scambiati per planton dai pesci, noi mangiamo i pesci e ci ingeriamo anche i polimeri, quindi è un problema di cui essere molto consapevoli, è un problema che ci dice ancora di più che il rifiuti zero è solo l'inizio, ci deve portare fuori dall'inciviltà, la plastica va drasticamente ridotta, se io posso sostituirla la devo sostituire, per alcuni prodotti, per le panchine, i panchi pubblici, forse è preferibile la plastica a seconda vita, perché non si rompe, il legno magari marcisce, è più bello ma sotto l'effetto della pioggia e quindi i bambini sono esposti a dei potenziali pericoli, ma io non dico un no assoluto alla plastica, ma della plastica usa e getta gradualmente bisogna impararne a fare a me, andiamo pure avanti, questo è il sistema porta a porta italiano che ci è stato copiato in Catalogna, nei paesi baschi, adesso in Slovenia e in altre parti del mondo, l'Italia ha le migliori raccolte differenziate al mondo, l'Italia non deve essere famosa soltanto per la terra dei fuori, l'Italia è un paese da montagne russe, ma abbiamo delle eccellenze, noi dobbiamo partire però dalle eccellenze, non dalle cose che non vanno bene. Il risultato più positivo, se qualcuno ha voglia di porre attenzione, non è l'80% di raccolta differenziata, ma la riduzione dei rifiuti, Capannori nel 2004 aveva, l'anno di maggior produzione dei rifiuti, aveva 1,92 kg a testa per giorno, è sceso a 1,18 nel 2013, la riduzione è stata del 39%, quella è la notizia giornalistica, non Capannori ha l'80% di raccolta differenziata, Capannori ha ridotto di circa il 40% i propri rifiuti, perché con il porta a porta si ottiene l'effetto collaterale ancora più significativo di ridurre i rifiuti. Questo è il mio sindaco, mi diceva, dovunque vai porta il mio saluto, io l'ho portato, va bene? Nel 2007 io e Paul Connett inviamo una lettera attraverso il protocollo LURD e venimo ricevuti, dopo 40 minuti, dopo aver spiegato il senso di quell'incontro, Giorgio, il sindaco, telefonò e disse, Rossano questa è una cosa che mi garba, mi sei in Toscana, si fa, rifiuti zero, mamma mia, il giorno dopo li telefonavano dalla regione, ma che hai fatto? Ma che sei nato? E ora a noi come si fa a far digerire impianti, cioè l'inceneritorio? E lui è uno del PD, a lui dice sempre, a me da un orecchio entra, da me l'altro esce, io voglio fare così e io faccio così, e questa sua testardaggine ha fatto sì che Capannori all'inizio del riso, oggi è seguito, lì una settimana fa al corso di formazione, misi 192, 196 sono 200, io aspetto stamani, no ma ci vuole una firma, lei mi deve firmare, dopo le spiego come, ci vuole una firma, la calica di 201, l'Italia migliore, abita lì, abita lì, abita qui, ecco naturalmente non tutti ci arriveranno, ma molti ci riusciranno, già il fatto stesso che hanno accettato la sfida, vuol dire che è formata da comunità e da amministratori vispi, che hanno il coraggio di guardare in faccia la realtà, che non rispondono, sì, sì, farò come vuole lei, su quella strada lì non usciremo mai dalla crisi, riproporremo in modo cancerogeno le metastasi di questo sistema qui, invece noi abbiamo bisogno di terapie di urto, bisogna, la prima terapia è trasparenza, connettiamoci con la comunità, è la comunità che ci salverà, noi stessi, siamo qualcosa perché stiamo insieme, andiamo avanti, questo è il lavoro che faccio io, il lavoro che faccio il maestro, io lì sono ad aprire il sacco grigio, per vedere che cosa rimane nel 20%, nel sacco grigio, io dico sempre, sono ragazzi un po' piccolini, ma insomma già un po' grandi, non è tanto sexy questa immagine, però vi assicuro che vedere il mondo da questa prospettiva è molto interessante, questa è la faccia sporca del nostro modello, io ai bambini faccio vedere prima e dopo il compleanno, prima, dopo il compleanno, e poi magari c'è uno più grande, anche obriaco, l'ha steso sul divano, ecco, di lì si vede non yuku yuku, ma si vede la parte sporca, tutto questo ha innestato quei feedback, abbiamo aperto, vedrete, il centro di riparazione e riuso, abbiamo aperto dei casi studio, andiamo avanti, queste sono possibili 11 attività di riduzione, si può arrivare facilmente, i rifiuti calano per inerzia, ha ragione l'amico Fabio quando diceva che anche qui è un falso mito quello del sud e suddicio, ma il sud produce meno rifiuti, è solo il 45% organici, quindi è molto più facile avere dei successi al sud, se partite adesso, sarà più facile per voi perché avete un monte di rifiuti che non supera le 500 kg all'anno, la crisi fa diminuire i consumi, ahimè, però le buone pratiche, tutto questo insieme si può proporre in tre anni un obiettivo di riduzione da raggiungere di almeno il 15%, andiamo avanti? questo, anche questa è una storia, questa è la fidanzata di un ragazzo che stava chiudendo la stalla, io mi immagino, aveva queste mucche madre, finite, va dal sindaco, perché quando qualcuno ha un problema va sempre dal sindaco, cioè io avevo la stalla, la devo chiudere, ho sei, mi sono rimasti sette vacche, vogliamo scappare anche qui, il sindaco disse, perché allora, guarda, noi ti costruiamo il baracchino del latte e te ci porti il latte fresco, bene, ora ha triplicato a 30 mucche, sono ingrassate meravigliosamente, naturalmente sto scherzando, ma è la verità, a me piace proporre piccole storie agli etofini, queste sono micro racconti, ma di persone in carne ed ossa, queste non sono miti per prendere in giro, ma sono risultati di biografie effettive, andiamo avanti, questo è il negozio F Corta, F Corta fatto da sette giovani, hanno avuto 80.000 euro in prestito dalle banche, le hanno già restituiti, ora hanno aperto F Corta a Milano, vengono tutto alla spina, questi sono i detergenti, il terrigente personale, ma non solo quello, l'olio, per realizzare, non è un ritorno al passato, per realizzare questo meccanismo per imbottogliare l'olio, hanno avuto 15 spezioni dall'asle, le asle vanno a ispezionare meno le discariche di inceneritori che assicurano di queste cose, ma lì dentro è incorporato un know-how, estremamente creatività, creatività estremamente raffinata, andiamo avanti, i prodotti di pregio della collina, 6 agricoltori lavorano solo per questo negozio, non di Milano, di Capagno, andiamo avanti, questi sono i prodotti locali, filiera corta, F Corta vuol dire filiera corta, tutto viene da non più di 70 km, in linea d'aria, quello non c'entra, c'entra ma è la copertina, questi sono altri prodotti locali, quelli laggiù in fondo si vedono male, sono i contenitori a caduta per la pasta, per evitare l'imballaggio e anche per il cibo, quello che hanno fatto di importante, ormai i supermercati li usano i detergenti alla spina, aver messo le ricariche sia per i detergenti che per i prodotti di pregio, che per il cibo, per il solito, per il food, andiamo avanti, questi erano i miei alunni dell'anno scorso, lì non ci sono tutti, a 27, ma in una classe così non ho mai avuto, mi hanno fatto morire letteralmente, oggi le abbiamo consegnate alle medie, però si comportano meglio, ed è stata una bella soddisfazione, il primo giorno c'era uno sciopero, non mi ricordo come mai erano così pochi, poi l'immortalarlo, io che non so neanche fare le foto, perché era il primo giorno che eravamo passati dalle bottiglie, impiettì, avevamo già i piatti e le forchette, i cucchiai, alle caraffe in vetro, con l'acqua del sindaco, noi abbiamo acqua buonissima e nonostante il referendum sull'acqua, se l'abbiamo vinto, meno male, però noi beviamo, io non so come il mare, l'acqua delle bottiglie, da dove viene? Da Lazio, ma non è che, non voglio mettere, no, se non poi mi aderisce più ai freddi zero, dovunque vado c'è questo luogo comune di utilizzare l'acqua in bottiglia, tra l'altro sono meno controllate di quelle, diciamo, delle fontane, andiamo avanti, pannolini, useggetta, per i bebè, abbiamo le famiglie, hanno gratis, per il primo anno i pannolini useggetta rispannano un sacco di soldi, riusabili, in alternativa useggetta rispannano, nel secondo anno devono pagare il 50%, abbiamo visto che c'è una criticità, in alcuni casi non tutte le famiglie se la sentono di lavare pannolini, perché non hanno tempo, perché magari non è lo sport più bello del mondo, allora siamo andati a visitare una buona pratica a Bologna, che siamo a progetto lavanda, hanno insediato negli asili nido un set di lavatrici, la mattina la famiglia che non se la sente di lavare, mette quando c'è il ritiro dell'organico fuori dalla porta, il giorno dopo avrà il pannolino pulito, pagando comunque molto di meno se si compara il prezzo tra l'acquistare il pannolino useggetta con questi pannolini che vengono regalati dalla farmacia comunale. Siamo avanti, questa era l'indagine merceologica che avevamo nel 2008, cioè che cosa componeva quel 20% che rimaneva, però io dicevo e dico, a me non mi interessano ora i numeri, io voglio parlare con la buccia di banana, perché buccia di banana sei finita nel sacco grigio invece di finire nel bidoncino marrone, qual'è la patologia? Qual'è la patologia? Nessuno lo sa, poca informazione, bisogna, la terapia è informare di più la massaia e se questa frazione organica che è finita nel sacco grigio, nell'indifferenziato, viene dalle ristorazioni, la terapia è la tia puntuale, cioè pagare in base a quanto rifiuti il differenziato produce, quindi meno ne produrrai e più risparmierai nella conduzione del tuo ristorante. Questo è un esempio, è un esempio di come è importante per tutti in zero vedere il corpo del reato, studiare effettivamente la patologia per capire le soluzioni, andiamo avanti, è il team al lavoro, io nel mio team ho un agronomo, vedrete che importanza ha questo giovane neolaureato all'università di Firenze, ho due designer, ho dei professori, ho dei semplici attivisti, ho qualcuno che se la cava bene con il computer e facciamo ogni due volte al mese l'ispezione alla stazione di trasferimento per studiare il residuo, quello alto è il professor Paul Connett perché abbiamo un team operativo e un comitato scientifico preseduto da Paul Connett con Enzo Favoino della scuola agraria del Parco di Monza che è il coordinatore scientifico, andiamo avanti, 2010, era di questi tempi, tutti vanno in discoteca per l'ultimo dell'anno non andiamo a vedere il succio, ci troviamo una caterva di queste pasticcone, delle capsule usa in getta, lavazza ma anche nespresso, ma anche illi, ma anche cop, allora andiamo avanti, altre, altri tipi da un modo mino, andiamo avanti, avanti, studiamo, cominciamo lì, il designer dice ma che cos'è, imballaggio o non imballaggio, che plastica è, c'è solo la plastica e il fondo del caffè o anche qualcos'altro, c'è anche un piccolo filtro cartaceo, andiamo, lo trasformiamo in caso studio e io scrivo una lettera alla lavazza, dato che io sono un piccolo maestro fiorentino, lucchese insomma per la verità, e scrivo e il messaggio è semplice, la comunità sta dando il meglio di sé, raggiunge l'80%, forse potremmo arrivare all'85, forse all'86, ma noi ci siamo informati che non c'è alternativa allo smaltimento per queste capsule, sono un errore di progettazione industriale, fa parte di quel 20% che va messo letteralmente nelle mani di chi ha creato il problema, ci date cortesemente una mano, la mattina dopo nella quinta terribile, mentre sto spiegando geografia, mi arrivano a telefonato, sono la responsabile dell'ufficio stampa di Lavazza, grazie, com'è? ci invitano all'innovation center di Torino, a Torino troviamo, a febbraio andiamo, troviamo AIPA, che è il settore di confindustria che tratta il prodotto alimentare italiano, quindi non una cosa da poco, ci dice grazie, con l'ora adesso abbiamo un tavolo per la risoluzione del problema, ma il messaggio più positivo è che nel frattempo ci contattano piccole aziende, questa è un'azienda di Roma che ha prodotto i cloni per la macchina Nespresso e per la macchina Lavazza per capsule riutilizzabili 300 volte, poi arriva un esperto di imballaggio farmaceutico che sul modello dell'aspirina ha trovato un sistema per bombardare la polvere di caffè, il macinato di caffè, formando una compressa che ha tutti i vantaggi del monoporzionato, non ti sporti le mani, fai velocissimamente perché la fortuna di questo mercato che aumenta del 15% all'anno nonostante la crisi è che è negli uffici che va moltissimo, la gente metta pausa caffè e non ha tempo di usare la moca o di usare la napoletana, allora boia quel basticcone, mantenendo i vantaggi con questo monodosato che riduce dell'80% la confezione plastica che viene considerata in quel caso imballaggio, non in quell'altro caso, si possono introdurre soluzioni anche più soft. andiamo avanti, ma adesso un altro passaggio miliare del nostro centro ricerca, il carico di zero di cui io sono direttore, il caffè è un ammendante talquale, noi lo abbiamo studiato, abbiamo visto per la verità, non l'abbiamo inventato noi, ma noi abbiamo questa caratteristica di trasformare in azioni concrete, quello che ci piace, abbiamo varato un progetto nella mia scuola elementare e nella scuola media, un progetto chiamato dai fondi del caffè alle proteine, adesso abbiamo prodotto i kit, un chilo di caffè con l'aggiunta di bicarbonato e di secatura, abbiamo inoculato il micelio, il semino che abbiamo acquistato, quando torneremo dalle vacanze ci saranno i primi funghi e a febbraio faremo una gara culinaria con le famiglie per chi ha cucinato meglio questi funghi, siccome vogliamo andare fino in galera perché magari questi funghi sono velenosi, muoio a tutti, l'asle di Lucca, il settore della micologia, ci ha ringraziato e è venuta, ha detto che ci farà le analisi di commestibilità nei laboratori del CNR di Pisa, ma noi questo micro progetto pilota lo facciamo guardando dall'economia, questo che sembra una sciocchezza tanto è semplice e banale, è un esempio di blue economy, molto più avanzata della cosiddetta e strombazzata green economy che spesso è quella della centrale del mercoledì, perché loro mettono il bollino verde per una cosa sporca, questo è il blue economy e pensate che il fondo del caffè rappresenta almeno l'1% dello scatto del comune di Capanno, sono circa 250 tonnellate e noi stiamo studiando a livello geologico il problema, è molto probabile che non sia considerato rifiuto ma sottoprodotto in base all'articolo 185 bis, manderemo un gruppo di giovani a ritirare i fondi del caffè e metteremo e faremo la prova di una impresa sostenibile anche sul piano locale, perché da questo fondo del caffè si produce un fungo che si chiama pleurotus, è un prataiolo, una variante del prataiolo, che è il terzo fungo più commercializzato in Europa, dopo lo champignon e il porcino viene il pleurotus, quindi stiamo parlando di economia e forse i giovani dovrebbero utilizzare le orecchie, non è solo un divertimento in più per l'appassionato di garden o di orticultura, ma è la possibilità di recuperare dallo scarto da quello che buttiamo via, si potrà dire ma quanti posti di lavoro avete buttati via fino ad ora? Con lo scarto del caffè, che tanto è bellissimo, si possono creare valori economici. Stiamo avanti, finita. Ecco, i pannoloni sono un altro problema, noi con la cassa di riposo abbiamo a disposizione un prototipo sul modello dei pannolini, ma con una problematica più complessa per i pannoloni, un piccolo problema è lo start up, ci occorrono 50.000 euro per produrre i prototipi, stiamo cercando qualche imprenditore interessato, ma naturalmente non è semplice andare avanti. Le scarpe, gli sneakers, i bambini crescono in fretta, fum, ogni anno hanno un piedino più lungo e li buttano nel residuo, allora la terapia è aprire il centro di riparazione e riuso. Queste scarpine vanno via come il pane al nostro centro di riuso, arrivano e vanno via. E poi, bisogna un po' anche scherzare sulle cose serie, abbiamo realizzato il piccolo museo degli orrori di progettazione, dove ci mettiamo tutto quello che rimane sullo stomaco del sistema di digestione dei rifiuti. Adesso mi è venuto un designer che mi fa il tirocinio al centro di ricerca, quindi avendo due designer struttureremo all'ingrande questa idea del piccolo museo degli orrori e lo faremo girare per le scuole. Chissà che un giorno non porti anche all'atronico, magari non mi senti al trem, ma vedremo, troveremo il sistema. Andiamo avanti e siamo ritornati all'indagine merceologica per capire anche sulla base dei numeri quello che rimane. Le famiglie intercettano, separano quasi il 97% della frazione organica, quasi tutto va a differenziazione. Da dove viene ancora quello organico che rimane in quel 20%, cambiamo, viene dalle ristorazioni, dalle utenze speciali. Allora lì non basta, forse non basta il bambino, per garantire al bambino o alla bambina, dice ma questa figliola lì che mondo gli consegniamo? Ma separo bene la pasta asciutta, in famiglia scatta questo meccanismo con più facilità. Nel ristorante è più difficile, il cameriere magari ritirava, ha perso l'Inter, no, boom, boom, butta tutto via nel sacco grigio, porta la mamma, no, domani lo faremo oggi, l'ha perso l'Inter. Ecco, allora la terapia è, si applica la TIA puntuale, da gennaio è entrata in forza a Capandoli la tariffazione di genere ambientale, più ti impegni nel separare e meno pagherai e per un'utenza speciale, ve lo dicevo prima, c'è una differenza anche economica estremamente rilevante. Questi sono gli amici di Capri, non so se, no, di Capri, Federambiente, se ha parlato del progetto Hotel Rifiuti Zero, hanno fatto il fumetto per Polconi che questo sono io, mi hanno fatto giovane e anche con più capelli, ma va bene così. Rifiuti Zero non solo si fa per gestire bene i materiali di scarto. A Capandoli, nella provincia di Lucca, cala il turismo in modo incredibile. Capandoli è aumentato nel 20%, Rifiuti Zero dà visibilità. La gente vuol dire, ma quanto costa un fondo a Capandoli? Vorrei venire a stare a Capandoli, non esagerare, perché troppo ti deludi. Ma ecco, dà visibilità, adottare le buone pratiche, mette in buona luce, è anche un'ottima vetrina, è l'Italia minore, non è vero, è l'Italia minore che ci salverà. Sono i piccoli borghi, l'associazione dei borghi autentici, 200 comuni aderite a Rifiuti Zero. È questa Italia che ci darà l'energia, la forza per uscire fuori dalla crisi. Rifiuti Zero aiuta queste iniziative anche di tipo imprenditoriale. Andiamo qui avanti. E adesso finiamo in modo romantico, vi invito tutti a Parigi. il primo e il secondo febbraio. Avremo l'incontro europeo di Zero Oeste, di Europe. Naturalmente ci saranno alcuni sindaci italiani, c'è una grande attenzione a livello internazionale all'Italia per il suo contributo a Rifiuti Zero. Venisse il sindaco di Latronico, non gli pago il biglietto, però sarei molto contento. Magari venisse insieme ad altri colleghi, ma mi cacerebbe che venisse anche una delegazione di Ampas e magari una scuola che stamattina ha portato, grazie agli insegnanti, i bambini, i ragazzi, ascoltati. Rifiuti Zero è il messaggio positivo. Molte cose non vanno, ma noi dobbiamo imparare dai buoni incontri e dalle buone pratiche. Cioè noi abbiamo realizzato una storia vincente. Nel 1995 volevano fare l'inceneritore a Capannuri. Se avessero fatto il cammino dell'inceneritore di Capannuri, pensate che ne avrebbero parlato? Oggi è venuto Le Monde a intervistarmi, è venuta Repubblica il giorno dopo, è venuto il Corriere della Sera, mi hanno chiesto di scrivere un libro per la Garzani, ma cosa? Perché è una storia lieto fine. Possiamo vincere. E ce la facciamo, ce la faremo se manterremo intatta questa alleanza particolare. Alleanza tra mondo politico, mondo associativo, ma anche alleanza tra generazioni. Dovete collaborare ragazzi con i vostri insegnanti, con le vostre famiglie. Però quando le famiglie non fanno la raccolta differenziata dovete essere voi a dire, mi stai rubando un pezzettino di futuro, per piacere, la buccia di banana che è finita nel contenitore grigio, vanno a riprendere e metterla nel bidoncino Marrone. Grazie.